Amato, odiato, gratificante, rutinario, manuale, intellettuale, precario, a tempo indeterminato, lontano, vicino, perso, sognato, ritrovato. Quante sono le etichette che ogni giorno ogni uomo e ogni donna applicano al concetto di lavoro? Tante, tantissime, come le spaccettature che esso possiede e come le implicazioni che esso inserisce nella vita di tutti. Eppure, probabilmente, nel mondo di oggi, nonostante le numerose parole che riempiono televisioni e giornali, sono pochi quelli che indagano il mondo del lavoro nella sua quotidianità, nella sua democratica interezza, nella sua umanità. Da queste premesse nasce l'idea di luci sul lavoro, un momento di confronto collettivo sul tema del lavoro. Attraverso rosaggi, canzoni, piccole opere teatrali, cortometraggi. Intendiamo far partecipare chiunque abbia voglia ed interesse a questo grande racconto collettivo sul lavoro, in tutti i sensi, in tutte le sue manifestazioni. chi non lavora, non fa l'amore, dammi l'aumento, signor padrone, così verrai che in casa tua di un'unica, che non lavora, non fa l'amore. Grazie a tutti.